studiate perché studiare è un po' come volersi bene è possedere una valigia di cose preziose pronte a ogni evenienza sarà uno scialle per riscaldarvi sarà cibo se avrete fame sarà acqua per placare la sete sarà luce per gli occhi nel buio della notte studiate perché studiare vi renderà liberi liberi da ogni miseria da ogni schiavitù da ogni stereotipo e pregiudizio vi insegnerà a ragionare a non dare nulla per scontato a guardare oltre e da prospettive diverse aprirà orizzonti spalancherà porte abbatterà muri e barriere unirà popoli modellerà destini vi insegnerà a essere ribelli per non piegare la testa davanti a nessuno e vi permetterà di definire voi stessi di fare le giuste scelte di conoscere passioni desideri desideri sogni studiate perché il tempo impiegato a farlo vi verrà restituito vi correrà incontro e in ogni situazione in ogni occasione in ogni circostanza saprete sfoderare l'arma del sapere e della conoscenza un'arma mai violenta perché figlia della saggezza e della pace studiate perché le vostre tasche saranno colme di storia di letteratura di poesia di formule geometriche di musica e di qualsiasi altra cosa vi appassionerete un peso leggero delicato quasi impercettibile ma con la forza con la potenza con la fierezza di chi sa di avere il mondo nelle mani di musica Grazie a tutti. Grazie a tutti.